Dagli antichi dei dell'Olimpo alla Cina, dai personaggi televisivi alle serie tv più amate, Benevento festeggia il Carnevale, maschere, musiche e carri per la sfilata lungo il centro storico della città. Partecipatissima la proposta della Proloco, diretta da Giuseppe Petito. Sì, finalmente si ritorna, sì c'è tanta gente, almeno da quelle che stiamo per vedere, e ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, anche se ci sono delle normative molto ristringenti rispetto agli altri passati. Però la collaborazione c'è stata, io ringrazio le istituzioni, in primis che ci hanno una grossa mano, il questore in prima persona, il sindaco e tutti i nostri sponsor e volontari che abbiamo. Guarda, sono fantastici, ne abbiamo contati 150, quindi figurati, abbiamo le maschere più belle, vi invito veramente a conto a vedere la 1 a 1, che sono uno spettacolo. E i carri hanno conquistato grandi e bambini per un pomeriggio all'insegna dell'allegria e del divertimento. Questo carro rappresenta la festa di San Patrizio, si chiama San Patrick Pub. Soltate nella ciotola! Il carro si chiama Apollocina, è nato dall'idea di ricostruire il Capodanno cinese. Tutto fatto a mano, abbiamo riciclato quello possibile. Direttamente dall'Olimpo, è il dio dell'acqua, Poseidone. Ciao! Grazie per la visione!